Sulla carta non c'è partita ma si sa che sul campo le cose marciano sempre in maniera diversa, ecco che non va presentata come una gara facile la partita che il Club Arezzo, formazione e rivelazione della stagione nel campionato di Serie C di Pallavolo, attualmente al secondo posto con i cugini del Foiano. La formazione bianco-rossa è penultima del girone con una sola vittoria all'attivo, otto le sconfitte nelle partite disputate, solo due i punti rimediati. La potenza di fuoco che esprimeva fino alla passata stagione sembra essersi sbarrita, al contrario i botoli sono con il vento in poppa e migliorano di gara in gara. Non si vincono otto partite delle nove disputate, finora per caso nel Club Arezzo c'è una bella organizzazione, armonia di gioco e grande incisività nel gioco offensivo. Da seguire anche la partita del Cortona, visto che a Terontola arriva la capolista Firenze che è avanti di un punto. Ad Arezzo si augurano che i cugini possano intralciare la marcia dei fiorentini.